sì pronto pronto ah ciao scott e neanche in montagna mi lascia in pace un secondo dimmi dimmi sì sì ma io ti avrevo parlato di un film tratto dai supereroi di fumetti ma non non un cartone animato comunque dimmi dimmi ben ten no non lo conosco cos'è a un cartone animato fare un live action di questo cartone animato ma cartone animato ma io cosa dovrei fare facciamo la parte di ben come sono troppo vecchio ah ho capito e cosa fa questo ben ah sarebbe un film di fantascienza quindi sì sì cioè lui ha questo orologio che praticamente gira spiegami se ho capito bene lui gira a seconda di quello dove punta lo si trasforma in quello che vuole a no non in quello che vuole a indeterminati pinna pinna jet cos'è quella che cazzo è omosauro no 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 mi rifiuto c'è cerca qualcosa di meglio ciao 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 Grazie.